Il tema che mi è stato assegnato, dicevamo appunto, è molto interessante, sebbene sia decisamente vasto, dal titolo stesso lo si evinci, e quindi necessiti di una immediata precisazione. Innanzitutto il personalismo come corrente di pensiero è tutt'altro che univoco e l'aggiunta dell'aggettivo liberale non facilita affatto il mio compito, forse lo complica ulteriormente. A questo si aggiunga che nel corso dei decenni i documenti del Concilio Vaticano II sono stati letti a partire da una miriade di chiavi interpretative, non sempre tra loro conciliabili. Il mio approccio sarà quello dello storico delle idee, mi occupo delle storie delle idee economiche in modo particolare, non tanto alla ricerca di sporadici, occasionali, selettivi e per questo particolarmente comodi punti di contatto tra la tradizione cristiana e il liberalismo, quanto quello di chi tenta di individuare tra le pieghe dei documenti un possibile filo rosso che leghi alcune espressioni del pensiero sociale cattolico che poi giungono espressioni che possono giungere anche ad esprimersi nel magistero ma non necessariamente ed alcune espressioni del liberalismo che insieme hanno avuto il merito, almeno a parere di chi vi parla, di mettersi in dialogo e di non scomunicarsi a vicenda senza raggiungere necessariamente sempre una condivisione. La seconda premessa ha a che fare invece con un aspetto metodologico che è essenziale del liberalismo in quanto teoria politica e teoria economica. Il nemico numero uno del liberalismo è il monopolio che può assumere le forme del monopolio del potere, del monopolio della produzione, ma anche del monopolio delle idee. Ebbene, il monopolio rappresenta sempre un male o comunque per gli economisti il monopolio è una situazione di disequilibrio nel mercato. Ma quando esso investe il campo delle idee, assume i caratteri del veleno più potente e letale, disertifica la mente e inietta il seme dell'intolleranza. L'unico capace di fiorire anche in un deserto, anzi potremmo dire che necessita proprio del deserto per fiorire, lì trova appunto il proprio habitat naturale. Poi per questa ragione nulla è più distante dal sottoscritto della pretesa di offrire un'interpretazione che soddisfi tutti i palati. Il concilio è stato interpretato in tanti modi, così come vari sono i giudizi sui tantissimi liberalismi, i tanti liberalismi che storicamente si sono espressi. Non pretendo quindi che il mio giudizio e la mia chiave interpretativa siano assunti come unici possibili, tutt'altro. In questa mia relazione dapprima rappresenterò il problema, il problema dal quale intendo partire, che è il rapporto, talvolta conflittuale, tra liberalismo e cristianesimo. Una seconda parte offrirò la lettura di un filone di pensiero che trova la sua centrale, la sua centrale, il suo quartier generale negli Stati Uniti d'America e che fece propria e che ha fatto propria la lezione del pare conciliare John Carter e Mare e quindi in modo particolare, in modo esclusivo, il documento sulla libertà religiosa, la dichiarazione sulla libertà religiosa, la dignitatis umane. Il modo in cui il concilio è stato letto da questa corrente di pensiero e il rapporto che essi hanno individuato tra quella rappresentazione e interpretazione del concilio e l'esperimento americano, la vicenda che portava alla genesi degli Stati Uniti d'America ed infine un tentativo di riflettere alla luce del paradigma, così come emerge da questi autori del concilio, possiamo dire con un'ottica prospettica, alla luce anche delle prime esternazioni e dichiarazioni di Papa Francesco in campo sociale. Il pretesto per iniziare questa riflessione mi è offerto dalla lettera del Papa Emerito Benedetto XVI al capo dello Stato Giorgio Napolitano del 17 marzo 2011 per il centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia. Ecco, questa lettera ci offre l'opportunità di riflettere su un aspetto ampiamente dibattuto nella storia del pensiero sociale cristiano e che ritengo faccia da sfondo al tema che mi è stato appunto chiesto di affrontare, personalismo liberale e Vaticano II, che rinvia appunto al rapporto tra pensiero sociale cristiano e liberalismo. pensiero sociale cristiano, come dicevo prima, che talvolta si esprime poi anche nel Magistero. Innanzitutto mi preme specificare che mi riferisco al liberalismo in quanto teoria dell'ordine politico limitato e del pluralismo istituzionale. In pratica, una teoria che postula il pluralismo istituzionale non gerarchizzato. Il limite del potere politico è la dimensione funzionale delle singole sfere esistenziali nelle quali opera la persona libera e responsabile. Questo è un po' il paradigma del liberalismo al quale mi riferisco. A tal proposito credo sia utile menzionare, soltanto ovviamente, una riflessione che assumo a margine dell'affermazione di Benedetto XVI circa una sana concezione liberale, in quanto ritengo abbia il merito di chiarire, sul fronte della tradizione cattolica, ma non solo, l'esistenza di una possibile linea di demarcazione tra la sana concezione liberale, appunto, e quella forma di liberalismo settario, come ebbe a definirlo il pare conciliare, appunto, Marrey, una forma che ha conosciuto un particolare fortuna proprio nel continente europeo. Innuce una distinzione che già troviamo in Rosmini, nella filosofia politica, lì dove afferma, assumiamo noi dunque di buon grado oggi di l'ufficio dei difensori del progresso e, se mi permettete, del vero liberalismo. Quel liberalismo di cui parliamo è un sistema di diritto e un insieme di politica, il quale assicura a tutti il prezioso tesoro di loro giuridiche libertà. E, qualche pagina dopo, all'aggettivo vero, aggiungerà anche l'aggettivo sano liberalismo. Nella citata lettera al capo dello Stato, Benedetto XVI afferma, e cito, senza regare il ruolo di tradizioni di pensiero diverse, non si può sottacere l'apporto di pensiero e talora di azione di cattolici alla formazione dello Stato unitario. Dal punto di vista del pensiero politico, basterebbe ricordare tutta la vicenda del neugolfismo che conobbe Vincenzo Gioberti, un illustre rappresentante. Ovvero, pensare agli orientamenti cattolico-liberali di Cesaro Ebalbo, Massimo D'Azzelio, Raffaele Rambruschini. Per il pensiero filosofico, politico ed anche giuridico, risalta la grande figura di Antonio Rosbini, la cui influenza si è dispiegata nel tempo fino ad informare punti significativi della vigente Costituzione italiana. E per quella letteratura che tanto ha contribuito a fare gli italiani, cioè a dare loro il senso dell'appartinenza alla nuova comunità politica, che il processo risorgimentale veniva plasvando, come non ricordare Alessandro Manzoni, fedele interprete della fede e della morale cattolica, o Silvio Pellico, che con la sua opera autobiografica sulle dolorose vicissitudini di un patriota seppe testimoniare la conciliabilità dell'amor di patria con una fede adamantina. E di nuovo figure di santi come San Giovanni Bosco, spinto dalla preoccupazione pedagogica a comporre manuale di storia patria che modellò l'appartenenza all'istituto da lui fondato su un paradigma coerente con una sana concezione liberale. Cittadini di fronte allo Stato e religiosi di fronte alla Chiesa. Fine citazione. Il brano appena letto ci consente di riflettere senza alcun pregiudizio su quella componente appunto del liberalismo politico ed economico che ha guardato alla tradizione cattolica e anche alla dottrina sociale della Chiesa con grande rispetto e interesse. Sul fersante propriamente politico crediamo sia opportuno individuare alcuni presupposti istituzionali della teoria politica liberale. In effetti, già nel discorso alle autorità civili e religiose a Westminster il 17 settembre del 2010, Benedetto XVI ha evidenziato i caratteri politici peculiari che interessano per conformità la visione che la dottrina sociale della Chiesa ha della politica. E cito. La tradizione parlamentare, l'equilibrio tra le legittime esigenze del potere dello Stato e i diritti di coloro che gli sono soggetti, i limiti all'esercizio del potere, la libertà di espressione, la libertà di affiliazione politica, la rule of law. Attenzione, nell'edizione italiana tradotto vi è un errore, nel senso che la traduzione non parla di rule of law, così come è espressa da Benedetto XVI nel testo originario, ma parla di Stato di diritto. Però nel testo originario si parla appunto di rule of law. L'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. Ecco, in pratica, per usare un'espressione tanto cara al già citato Marra e quanto a Luigi Sturzo, i caratteri tipici del metodo politico liberale. Questi sono gli aspetti positivi che Benedetto XVI individua nella tradizione liberale che poi sono gli stessi che Sturzo e Marra individueranno proprio come capisaldi del metodo politico liberale, capaci di promuovere la dignità della persona, il dovere che le autorità civili hanno di promuovere il bene comune e nel contempo una nozione di bene comune che si risolve nella visione plurale e poliarchica delle istituzioni politiche, economiche e culturali irriducibili ad una prospettiva monistica e centralistica. In definitiva, sulla scorta di dignità disumane numero 6 né allo Stato né a nessun'altra istituzione spetterebbe il monopolio del bene comune. Ecco come si esprime il documento conciliare a proposito. Poiché il bene comune della società che si concreta nell'insieme delle condizioni sociali grazie alle quali gli uomini possono conseguire il loro perfezionamento più riccamente e con maggior facilità facilità consiste soprattutto nella salvaguardia dei diritti della persona umana e nell'adempimento dei rispettivi doveri adoperarsi positivamente per il diritto alla libertà religiosa spetta tanto ai cittadini quanto ai gruppi sociali ai poteri civili alla chiesa e agli altri gruppi religiosi a ciascuno nel modo ad esso proprio tenuto conto del loro specifico dovere verso il bene comune fine citazione al tal proposito ecco di seguito il commento di padre Murray in un saggio proprio a margine del documento conciliare il bene comune scrive include tutti i beni sociali tanto spirituali e morali quanto materiali che l'uomo persegue sulla terra in base all'esigenza della sua natura personale e sociale il perseguimento del bene comune è pertinenza della società nel suo insieme di tutti i suoi membri e di tutte le sue istituzioni secondo i principi di sussidiarietà e giustizia l'ordine pubblico la cucura spetta allo Stato è un concetto specifico fine citazione in definitiva il concetto di bene comune andrebbe distinto da quello di ordine pubblico come conseguenza della distinzione fra Stato e società è qui che riposerebbe l'elemento teorico più significativo del contributo offerto dal Murray al concetto di libertà di coscienza e religiosa un elemento che alcuni storici tendono a collegare proprio all'influenza che Sturzo ebbe su Murray durante l'esilio appunto di Sturzo l'esilio new yorkese scrive lo storico statunitense Russell Hittinger Murray ha mostrato perché la controversa chiesa Stato fosse irriducibile al campo monistico ossia alla subordinazione della società ad una singola e indifferenziata cittadinanza sperimentata attraverso l'onnicompetenza dello Stato ora l'individuazione di un metodo politico liberale consente di scindere i portati positivi del liberalismo tutto ciò che ha consentito Benedetto XVI di utilizzare quella espressione sana concezione liberale dalle sue manifestazioni storiche per incanalarli nelle varie culture politiche delle quali può diventare un solido denominatore comune spendibile nella concreta attività politica nonché cifra comparativa per coglierne le differenze una sorta di paradigma a dimostrarlo c'è tutta l'esperienza ad esempio di Sturzo che riconosceva al liberalismo d'aver introdotto due conquiste ormai inderogabili per la civiltà il metodo della libertà e il metodo rappresentativo una sorta di riconoscimento dei segni dei tempi antelittra la libertà non è mai un dato pacificamente acquisito scriveva la battaglia per la libertà non avrà mai fine quanto una meta da raggiungersi nello svolgimento della storia incarnando la forma della libertà nelle forme istituzionali secondo i canoni del costituzionalismo è contro lo stato onnivoro e accentratore che tenta di annichilire quanti minacciano di porre un freno ai suoi poteri le autonomie locali e la società civile le famiglie e le altre istituzioni ovvero la spontanea capacità aggregativa dei corpi intermedi padre barri che subì l'influenza di Sturzo durante l'esilio new yorkese del prete siciliano e in particolare dell'opera chiesa e stato già disponibile in lingua inglese nel 1939 identifica proprio questo portato del liberalismo metodo della libertà e metodo della libertà e metodo rappresentativo con l'aumento della consapevolezza personale e politica un aumento registrato già da Pio XII nel radiomessaggio natalizio del 42 e del 44 nonché nel significativo discorso pronunciato all'unione dei giuristi cattolici del 6 dicembre del 1953 e esplicitata poi da Giovanni XXIII nella pace Minterris lì dove il pontefice definisce tale consapevolezza personale in questo modo nel modo seguente la dignità di persona propria di ogni essere umano esige che esso operi consapevolmente e liberamente per cui nei rapporti della convivenza i diritti vanno esercitati i doveri vanno compiuti le mille forme di collaborazione vanno attuate specialmente in virtù di decisioni personali prese cioè per convinzione di propria iniziativa in attitudine di responsabilità e non in forza di coercizioni oppressioni provenienti soprattutto dall'esterno una convivenza fondata soltanto sui rapporti di forza non è umana in essa infatti è inevitabile che le persone siano coartate o compresse invece di essere facilmente facilitate e stimolate a sviluppare e a perfezionare se stesse fine citazione ora garantire il pluralismo è allora deputato il metodo rappresentativo a sua volta l'antropologia cristiana arricchisce il senso di questa libertà e di questo potere del popolo evitando di personificare lo stato o le masse e riferendosi piuttosto alle persone concrete che operano nelle istituzioni con tutto quel corollario di antiperfettismo e di contingenza così ben approfondito da Rosmini e non solo ovviamente per arrivare fino ai teorici del personalismo metodologico ovvero del personalismo liberale all'asturzo il quale scriveva chi agisce è solo l'individuo associato ad altri uomini individui tutti liberi e tutti condizionati e condizionati si avvicenda sicché il fine voluto può anche sfuggire loro pur avendone posti tutti i precedenti atti a conseguirlo ed ancora in sostanza l'unico vero agente della società è l'uomo individuo in quanto associato con altri uomini a scopi determinati ed ancora la base del fatto sociale è da ricercarsi solo nell'individuo umano preso nella sua concretezza e complessità e nella sua originaria irrisolvibilità in concreto si danno solo individui in società e Rosmini che io non ho tracce di collegamenti diretti tra Rosmini e Sturzo tranne la consapevolezza che Sturzo abbia letto chiaramente Rosmini non ho però appunto delle fonti che lo attestano in modo diretto ma leggendo questo brano pare evidente il collegamento conviene che ogni sociale amministrazione attentamente rifletta che la felicità individuale non è già propriamente l'opera sua ma ella è e non può essere altro che l'opera degli stessi individui la sua azione dunque deve principalmente essere negativa una preziosa testimonianza a favore di un proficuo incontro tra prospettiva cristiana e teoria politica liberale ci viene offerto tra gli altri sul versante appunto liberale dal premio Nobel Fredrik August von Hayek l'economista austriaco nel ripercorre le tappe salienti della lunga marcia del pensiero liberale nella storia dell'umanità sulla scia di Lord Acton inevitabilmente assunto anche da Padre Marre come punto di riferimento al punto che indicherà proprio nel liberalismo l'alta fase della società civile cioè l'istituzionalizzazione della libertà ebbene Acton Hayek sulla scia di Acton definisce Tommaso d'Aquino il primo Whig il fondatore del partito della libertà e in ordine alla predisposizione di un'indagine sulle prime scuole politiche che formularono il principio della rule of law e di autogoverno della comunità o della civic republicanism civitas civi princeps per intenderci ecco rimanda allo studio di autori medievali quali Niccolò D'Acuse e Bartolo di Sassoferrato uno slodo importante di tale discussione è appunto un intervento di Hayek il quale nel 1947 introducendo i lavori della Mont Pelerin Society da poco fondata scrive questo liberalismo intollerante il liberalismo settario appunto continentale o quello falso di cui parlava Rosmini ed aggressivo è il principale responsabile dell'abisso che particolarmente in Europa ha portato molto spesso le persone religiose ad allontanarsi dal movimento liberale sono convinto che a meno che non si riesca ad abbattere questo muro che divide il liberalismo dalla religione sia impossibile sperare in una rinascita delle forze liberali ovviamente per Hayek le forze liberali erano tutte quelle che si erano opposte al totalitarismo molti segnali molti indizi lasciano pensare che in Europa una simile riconciliazione sia oggi più vicina rispetto al passato e che molti vedano in essa l'unica speranza di sopravvivenza degli ideali e della civiltà occidentale è per questo motivo che mi sembra così importante riservare ai rapporti tra liberalismo e cristianesimo una sessione specifica dei lavori del nostro incontro e da allora tutti gli incontri della Montpellier Rant Society presentano al loro interno una sessione dedicata a questo dibattito una scuola vengo alla seconda parte una scuola di pensiero nella storia contemporanea delle idee politiche ed economiche che ha tentato di far propria la sfida lanciata da Hayek sul versante liberale ma anche da autori come Sturzo e Murray su quello propriamente cattolico è il cosiddetto filone nordamericano del cattolicesimo Whig loro si amano definirsi in questo modo più noto invece come neoconservatorismo il nome data la cattiva fama non rende affatto giustizia poi del contributo offerto dai suoi interpreti in particolare andrebbe approfondita l'analisi di pare Richard John Neuhaus sul concetto di più nuda piazza pubblica in forza della quale Neuhaus contesta il paradigma della laicità contrapponendo ad essa quello invece della religious freedom mutuato dalle dignità tessumane e riconosciuto come il perno intorno al quale ruota l'eccezionalità dell'esperimento americano ancora la lettura del concilio offerto dall'analista politica e biografo di Carlo Wotiva George Weigel nonché l'idea del teologo e politologo Michael Novak mutuata dalla medesima interpretazione del concilio di una teoria critica della società che sia riconoscibile come tipicamente americana e nel contempo fondata sui principi della tradizione del cattolicesimo in pratica si tratta del tentativo di cogliere quanto di meglio nella tradizione del liberalismo classico abbia contribuito alla genesi dell'esperimento americano per poi aprire un dialogo inedito con la tradizione cattolica e con la moderna dottrina sociale della chiesa una sorta di filo rosso quello tracciato da Novak che lega Tocqueville a Lord Acton ed entrambi a Hamilton e a Madison fino ad arrivare a Sturzo e a padre Murray questo filo rosso è chiaramente dato dall'anti perfettismo interessante e interessante confrontare ad esempio il Federis 51 di Madison dove si afferma che il governo nel governo se gli uomini fossero angeli nessun governo sarebbe necessario dedicendo con i passaggi di Rosmini a tal riferimento la peculiarità delle posizioni dei nostri autori ha a che fare in primo luogo con la critica ad una certa interpretazione del concilio che era divenuta egemone negli Stati Uniti e presso alcuni gruppi intellettuali più influenti scrive Weigl a darsi battaglia furono due fronti conciliari nettamente distinti i bravi progressisti e cattivi conservatori con la vittoria finale dei primi malgrado l'intransigenza dei secondi Weigl non disconosce che in una simile ricostruzione del concilio esistano alcuni importanti elementi di verità scrive la curia romana la burocrazia centrale della chiesa si era intellettualmente fossilizzata e troppo spesso identificava i bisogni della chiesa universale con i propri interessi personali tanto la teologia allora quanto la studio della scrittura e il suo culto l'approccio con la modernità imponevano uno sviluppo nonostante questi elementi di verità una tale interpretazione del concilio per i nostratori non riuscì a coglierne l'elemento cruciale scrive Weigl ogni interpretazione del Vaticano II che non vi veda innanzitutto una profonda esperienza spirituale un atto di fede tra gli odi dell'epoca un arricchimento della fede della chiesa affinché i cristiani possessero vivere una partecipazione sempre più piena alla verità divina è semplicemente destinata a non cogliere ciò che è stato centrale nell'esperienza del Vaticano II rispetto all'interpretazione che i nostri autori hanno dato del concilio vaticano II varrebbe la pena di suggerire alcune considerazioni ed anzitutto avrebbe sottolineato che essi oltre al contributo di padre Murray hanno accolto con grande interesse e favore il giudizio dell'allora cardinale Votiva per il quale il Vaticano II sarebbe pienamente comprensibile soltanto al di fuori dell'ermeneutica politica destra-sinistra ossia di un confronto tra le principali forze politiche ecclesiastiche all'epoca contrastante il riferimento principale per i nostri autori in tale materia è il testo di Votiva alle fonti del rinnovamento studio sull'attuazione del concilio Vaticano II Il concilio scrive Votiva non ha voluto essere un concilio dogmatico in quanto non altera alcun contenuto della fede tuttavia non lo si può neppure far retrocedere ad un concilio minore che si è occupato di qualche aspetto di disciplina ecclesiale esso appariva al cardinal Votiva come un concilio eminentemente pastorale ciò significa che piuttosto che tematizzare ciò in cui dobbiamo credere è intervenuto direttamente sul modo in cui dobbiamo rendere testimonianza dei contenuti della fede Per Votiva la domanda che ci pone il concilio è la seguente in che modo dobbiamo credere perché la fede diventi la forma della nostra vita il concilio interroga i cristiani su come dare forma viva ai tradizionali contenuti della fede a distanza a distanza di anni dalla chiusura del concilio nei confronti dei quali appunto questi nostri autori avevano nutrito grandi speranze l'immagine che si presentava ai loro occhi era quella di una chiesa nella più profonda agonia e confusione tale confusione osserva Weigel non aveva nulla a che vedere con la critica lefevriana quanto piuttosto con l'interpretazione che del concilio davano alcuni gruppi intellettuali influenzata dall'ermeneutica ad un'ermeneutica dei fenomeni sociali di tipo marxista se consideriamo che per Weigel Novak e Neuhaus il cuore dell'avvenimento conciliare è stato il riconoscimento della libertà di coscienza come un diritto inalenabile della persona umana si comprende allora l'abisso che separa l'interpretazione del concilio offerto ai nostri autori rispetto al rifiuto dello stesso da parte delle fevriane nell'interpretazione conciliare avotigliana fatta propria da questi autori la cifra della libertà umana c'è data dalla capacità della persona di trascendere i propri impulsi per scegliere il bene il modello di tale prospettiva antropologica è evidentemente Gesù Gesù sarà la propria libertà in obbedienza al padre fino all'estremo dono di sé se la cifra della libertà dunque è il dono ne consegue che non può esistere dono se non nella libertà ed anche un'azione buona rispetto al proprio contenuto che sia avvenuta in assenza di libertà perderebbe il proprio carattere umano ovvero personalistico ossia morale in tal modo il problema della libertà religiosa è iscritto nel contesto del personalismo cristiano ed è esposto come la manifestazione della trascendenza della persona umana verso Dio così per Weigel per Novak e per Neuhaus Wojtyla dimostrò che era possibile difendere energicamente la libertà religiosa senza ridurre la libertà ad una questione di indifferenza fra opinioni sul versante propriamente civile sul versante propriamente civile sociale dunque politico ed economico è importante ricordare l'approccio con il quale gli autori che abbiamo citato hanno tentato di affrontare le questioni legate alle trasformazioni sociali culturali e politiche alla luce della tradizione e dei valori americani mostrando quanto essi fossero conformi all'idea di dignità e di libertà tipiche della tradizione cattolica e del suo magistero sociale informato appunto alla dignitatis umana dall'elaborazione di questo pensiero è possibile rintracciare i tratti di una filosofia politica che assume dalla tradizione del liberalismo classico i temi del costituzionalismo del governo della legge della sovranità limitata l'idea di governo come dominio della legge e non degli uomini strumenti che i nostri autori hanno saputo mettere in relazione con i concetti classici della tradizione cattolica quale la dignità umana la libertà integrale individuale e indivisibile la conseguente dunque responsabilità della persona e l'ineludibile limitatezza della sua costituzione fisica e morale il tutto nella cornice della dottrina della legge morale naturale lì dove la legge morale parla alle singole coscienze e dunque rappresenta il limite che la coscienza morale ogni coscienza morale costituisce per ogni istituzione ed ogni potere inclusi poteri politici dunque una filosofia della politica che si presenta come una teoria delle istituzioni sociali universalmente riconoscibile come tipicamente statunitense liberale in senso classico e anglosassone e nello stesso tempo in modo del tutto originale proiettata verso un rapporto sempre più stretto con la storia del pensiero cattolico e eventualmente con la sua moderna dottrina sociale in primis con i risvolti sociopolitici ad esempio del magistero conciliare anche in questo caso appare evidente il debito dei nostri autori nei confronti di padre Murray particolarmente quello di Michael Novak il quale partecipò come cronista proprio al concilio tra il 63 e il 64 diceva un padre Murray per il quale a commento della dignità desumana afferma che il correlativo politico della libertà di coscienza intesa come diritto umano e civile dell'individuo all'immunità dalla coercizione nella ricerca di Dio il correlativo è il diritto e il governo costituzionale il quale sarà tale nella misura in cui i suoi poteri saranno limitati ecco allora i quattro principi fondamentali evidenziati da Murray e assunti poi anche da Novak che fanno di un governo qualsiasi un governo costituzionale in primo luogo la distinzione tra ordine sacro e ordine secolare secondo luogo la distinzione fra stato società e stato terzo luogo la distinzione come corollario la distinzione fra bene comune e ordine pubblico ed infine la regola della libertà nei limiti della legge pur non accettando l'etichetta di apologeti dell'esperimento americano a differenza di altri settori del cattolicesimo i nostri autori rifiutano l'idea di poter spiegare la genesi e lo sviluppo della nazione americana al di fuori della tradizione cristiana riducendo dunque la vicenda costituzionale a una sorta di trionfo di individualismo e di volontarismo locchiano interpretati oltretutto in senso ateistico il tema della repubblica priva di fondamenti scrive Weigel e cito è una causa della disputa fra noi dice da un lato e David Schindler e gli altri del circolo gravitante intorno a Comunio questa disputa in cui si possono benudire gli echi di un'altra disputa quella avvenuta fra Murray e i suoi avversari intorno agli anni 50 che costrinse Murray al silenzio è stato pare Murray a sostenere che per un'inspiegabile ironia della storia la tradizionale dottrina cattolica del diritto naturale è andata via via decadendole nelle nazioni europee proprio mentre essa assumeva particolare vigore nella neonata repubblica d'oltre atlantico è paradossale afferma Murray che una nazione pensata e fondata dal genio protestante rintracci le proprie radici e le ragioni della propria struttura politica in una tradizione e i cui protagonisti di allora sono così distanti dagli attuali correnti intellettuali protestanti e questa è la ragione per cui anche per Tocqueville la partecipazione dei cattolici all'esperimento americano è stata sin da subito ampia libera e senza riserve i contenuti di quell'esperimento sotto il profilo etico tanto sotto il profilo etico quanto sotto il profilo dei principi politici affondano le proprie radici nella dottrina del detritto naturale l'opera più importante di Murray We hold this truth che è poi anche la frase con la quale si introduce il preambolo alla dichiarazione di indipendenza concludi a questo punto pare Murray quando si usa questo linguaggio i cattolici si uniscono facilmente alla conversazione e il loro linguaggio le idee espresse sono originate dal loro universo conosciti discorsivo a questo punto i nostri autori salutarono con entusiasmo nel 1991 la pubblicazione dell'enciclica Centesimus Sannus Giovanni Paolo II in quanto la considerarono un punto di svolta rispetto ad alcune ambiguità del passato scrive Weigel la coraggiosa proposta avanzata dal Papa di ridare vita ad una società libera in tutte le sue parti e il risalto da egli dato alla sfera morale e culturale in quanto campo di battaglia sia nelle democrazie già affermate che in quelle di nuova affermazione ci era sembrata decisamente giusta avevamo anche eravamo anche entusiasti della sensibilità empirica mostrata dall'enciclica nei riguardi dei dati dello sviluppo economico che aveva come conseguenza la rinuncia di ricercare la vecchia terza via cattolica né socialista né capitalista interessante anche il giudizio che darà Neuhaus consapevole che il liberalismo moderno soprattutto nell'accezione americana del termine è motivo di contraddizione e di sconto tra i cattolici interviene sull'argomento affermando liberalismo è libertà e tutto ciò che ha a che fare con la libertà ci interessa per i cristiani americani ed in particolar modo per i cattolici non c'è nulla di sbagliato che non possa essere corretto nebbe il mezzo della svalutazione del devastamento dell'esperimento americano che un tempo esaltò lo spirito umano e che sarebbe ancora la condizione per farlo la centesima usannus ci invita a riappropriarci e a ricostruire la tradizione liberale a modo di conclusione mi nutro in qualche modo la speranza che l'elezione al soglio pontificio di Papa Francesco possa ridestare o destare ulteriormente l'interesse sul rapporto tra religione e istituzioni economiche e politiche nell'ottica del paradigma conciliare un paradigma che postula come dicevamo prima la pluralità non gerarchizzata delle istituzioni e dei poteri sociali istituzioni create da uomini per altri uomini dunque contingenti storicamente determinate e indipendenti autonome per dirla con le parole del sociologo Diotta Levy in linea di principio ed in termini rigorosi da loro in avanti dal concilio nell'insegnamento sociale della chiesa non c'è più spazio per uno stato neppure sedicente cristiano o monifico con le gerarchie ecclesiastiche in eccitazione salta dunque ogni forma di progetto clericale integrista e fondamentalista come scritto dal teologo Giuseppe Colombo si parte dalla evangelizzazione per comprendere ma non per dedurre l'azione politica dal momento che l'evangelizzazione eccede la politica così come del resto sulla scorta della dignitatis umana numero 6 il bene comune eccede la politica e mai viceversa anche in questo caso non possiamo esimerci dal chiamare a testimone l'insospettabile padre Murray scrive oggi nell'evoluta tradizione costituzionale lo stato è un agente che segue un compito limitato nella società gli scopi dello stato non hanno la medesima estensione di quelli della società lo stato infatti è soltanto un ordine in seno alla società l'ordine del diritto pubblico e dell'amministrazione politica le autorità civili investite dell'autorità statale hanno l'incarico di eseguire certe limitate funzioni a vantaggio della società che possono e debbono essere esercitate dalla disciplina coercitiva del diritto e dell'autorità pubblica tali funzioni sono definite dalla legge costituzionale con consenso dei cittadini in generale società significa un'area di libertà personale e corporativa mentre stato significa l'area nella quale le autorità civili possono esercitare legalmente i loro poteri coercitivi negare questa distinzione significa accettare il concetto di governo totalitario fine citazione in questo contesto Papa Francesco nella sua recente encichica Lumen Fidei rimanendo nella scia dell'insegnamento di Giovanni Paolo II di Benedetto XVI di quest'ultimo si considerino oltre alla lettera a Giorgio Napolitano anche discorsi appunto a Westminster e quello soprattutto al Bundestag di Berlino e ancora l'apprezzamento per la tradizione appunto anglosassi del rule of law nonché l'affermazione presente in Caritas in Veritate circa la dimensione poliarchica e sussidiaria di una necessaria governance e non di un government dell'economia globale paragrafi 67 57 e 67 ebbene mostra nella Lumen Fidei come la luce della fede non fondi la città di Dio sulla terra quanto piuttosto qualifichi cristianamente le istituzioni che gli uomini saranno capaci di edificare per se stessi e per altri uomini rapporti quelli tra religione e istituzioni sociali difficili conflittuali e storicamente segnati dalle storture e dalle ingiustizie causate da uomini che fanno della brama di potere e della ricerca del successo ad ogni costo le loro norme di vita al cuore del personalismo liberale troviamo la convinzione che le istituzioni non sono soggetti di atti morali di conseguenza non sono in sé né buone né cattive riflettono le azioni e i modi di pensare delle persone che vi operano di cui il sorgere e il prosperare di numerose strutture di peccato che hanno segnato negativamente il corso della storia del capitalismo e di tutte le formi storiche sistemiche che hanno assunto le istituzioni politiche ed economiche ecco la ragione dello spirito riformatore che dovrebbe animare il modo di essere dei cattolici nel secolo in Rosmini ho trovato questa bella questa bella questa bella espressione le critiche rivolte al perfettismo non sono volte a negare la perfettibilità dell'uomo e della società che l'uomo sia continuamente perfettibile finché dimora nella presente vita egli è un vero e prezioso e un dogma del cristianesimo Sturzo scriveva nella vera vita può sembrare strano ma lo spirito del male è talmente insito nella struttura sociale che spesso si confonde con l'ordine stabilito con le tradizioni dei signori con i fatti compiuti in una parola con tutto quello che viene stabilizzato in nome dell'uomo da qui il bisogno continuo sentito dai migliori di promuovere le riforme con l'esortazione con l'espressione ad ogni costo e a qualsiasi prezzo intendo riassumere un brano dell'esortazione apostolica di Giovanni Paolo II Reconciliazio e Penitenza dell'85 poi riproposto dallo stesso Pontefici in una nota del paragrafo 36 nell'enciclica sollicitudo Re Socialis dell'87 e che credo sintetizzi in modo esemplare il paradigma conciliare con riferimento alla teoria delle istituzioni che risponda al metodo liberale cioè libertà e responsabilità il contesto nel quale il brano inserito nell'enciclica rinvia al tema delle strutture di peccato come cause del sottosviluppo le cause del sottosviluppo andrebbero ricercate in primo luogo nell'irresponsabilità civile di chi detiene posizioni dominanti all'interno della società civile il brano in questione ci dice che le strutture sociali ovvero le istituzioni politiche ed economiche non essendo soggetti di atti morali non possono essere considerate in se stesse né buone né cattive dicevamo in definitiva secondo questa prospettiva le situazioni di ingiustizia e di malessere sociale dipendono non necessariamente per via intenzionale da personalissimi peccati di chi genera condizioni di iniquità ma anche da chi più modestamente la favorisce fino a comprendere coloro che se ne servono sfruttandola per il raggiungimento dei loro personalissimi obiettivi tutto ciò basterebbe a qualificare il modo di essere dei cattolici nella vita civile in maniera tutt'altro che moderata eppure il brano in questione ci invita ad andare ben oltre e tra i personalissimi peccati che contribuiscono all'edificazione di tali strutture istituzioni quindi vengono comprese anche le azioni di chi pur potendo fare qualcosa per evitare eliminare ovvero limitare situazioni di iniquità sociale non lo fa per pigrizia magari per paura una paura che può giungere fino all'omertà un peccato di omissione che è spesso giustificato a partire da una cultura dell'indifferenza e della complicità con il potere un'indifferenza e una complicità che fiaccano le nostre energie e ci fanno desistere dalla fatica della partecipazione accampando scuse quali l'impossibilità di cambiare il mondo ovvero le immancabili ragioni di forza maggiore le ragioni di stato di partito di nazione di razza e via dicendo scrive leggo dall'esortazione le vere responsabilità dunque sono delle persone una situazione così un'istituzione una struttura una società non è di per sé soggetto di atti morali perciò non può essere in se stessa buona o cattiva in questa prospettiva è l'identificazione del denaro e del potere come idoli ad essere condannati idoli a quale inchinarsi e in nome dei quali sacrificare il messaggio evangelico e conformare le proprie azioni idoli che si presentano con le vesti ordinarie e quotidiane del successo professionale del morstua vita mea di chi pretende di raccogliere senza aver seminato e che disemina la moda e chi semina la morte per il proprio tornaconto sono gli idoli accattivanti e generalmente tollerati perché un po' tutti ci rappresentano nei confronti del quale si è solitamente più indulgenti e autoassolutori in breve è un atteggiamento una predisposizione un comportamento che diventano costume l'aria stessa che respiriamo che giunge a intossicare le nostre coscienze e a corrompere le istituzioni della democrazia e del mercato e l'insana pretesa di essere assolti anche quando ad ogni costo e a qualsiasi prezzo anteponiamo il nostro interesse immediato a quello di chi ci vive accanto fosse anche qualcuno che deve ancora nasce e vi ringrazio per l'attenzione grazie grazie a tutti